ragazzi veramente da non credere allora innanzitutto vi faccio vedere quante macchine ci sono io pensavo di venire e non trovare nessuno comunque guardate entro nel bosco vedete c'è la strada entro nel bosco e si trova un primo piccolino e guardate e se ne trova un altro guardate un po mangiato eh però è fresco vedete bello è fresco si raccoglie quest'altro guardate ce n'era un altro qui guardate qua abbiamo tutto schiacciato e che con queste temperature alte che ha fatto escono davvero in maniera strana veramente da un giorno all'altro comunque insomma per essere entrati nel bosco e ve ne trovati due è già qualcosa di emozionante dai speriamo di aggiornarci presto comunque sono tra i castagni e la giornata è fantastica ciao ragazzi a più tardi dai la nascita è partita quindi vabbè questo è piccolino non si coglie però nascita di funghi ce ne sono meno male perché a distanza di qualche giorno sono venuto domenica non c'era niente ma ho fratto una ventina di metri da dove ho trovato gli altri un altro qua qua ci sono statini eh ero andato un po' su ma ora sono ritornato giù che mi sa che buttano un pochino meglio qua c'è una nascita miracolosa è piccolino però c'è ho visto uno un po' piccolo qui ora io questo non lo prendo se vedete qui sotto ce n'è un altro piccolino vabbè dai è piccolo ancora però va bene ci piace sono piccoli ragazzi non si riescono a trovare i grossi però vabbè dai si raccoglie meglio di nulla sono belli perché sono di nascita ma vabbè va bene zio l'hai visto? nein guarda dietro il tronco quello che viene su c'è un tronco che viene su? più su? più su? qui poca eh sì poca zio questo è bello è un po' vecchio forse no no è buono bello bello zio bello vediamo eh bello zio guarda il gambo bello oh guardiamo in giro zio questi cominciano a essere quei ritrovamenti fatti bene bravo quello è quello che vogliamo ecco che dici la raccogliamo? ma io lo stavo per pestare ah che bello questo è bello duro eh questo è sodissimo sì e poi cominciano a buttare gli edulis meno male prendiamo un altro proprio dietro al masso guarda lo vedi? eh se lo vedi eh caro zio questo è bello questo è un mattolino ah senti il rumore? ah bello sì cioè ragazzi siamo sulla strada questo è veramente bambi guardate bello che è guardatelo guarda guardate bello 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 guardate bello